Vorrei giocare una partita. Si può? Banniamo Tristana. Noi abbiamo bannato molto velocemente. E non sono dei bann che mi piacciono. Manca Ari qua dentro, l'Honor Free Speak. Poi c'è Smolder, Zero Open, Senna Open. C'è Open un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Ah, si picchia per focusarsi. Figo. Draven, Kalista, Kai'Sa. I love to play with Blitz versus Jinx, Lulu. Non Samir. Non Ashe. Allora dobbiamo giocare Nautilus. Nautilus non mi piace troppo contro Shaco. Sembra come è messa nel meta. 50% di winert. C più. Ma non sembra il massimo. Era meglio Kalista, mi sa. Vedi? C'è una winert più alta. E si energizza meglio con Blitz. L'unico problema è che ci può rispondere di Alistar qua. Alistar è un bel pick contro me, contro Samira. È forte con Shaco. Non credo che andava di Lulu. Non dovevo swappare. Speriamo che almeno lui vinca la... Speriamo che almeno lui vinca la top lane. Contro Ione. Dodge. Adesso dovrei doggiare io, ovviamente. Tutto per prendere una kill di merda top lane che non penso che vinca mai nel matchup contro Ione. Verrà gancata spam da Shaco. Io counter Jinx, Katarina. Forse è un buono contro Shaco e Ione. È una partita difficile. Sì, ma è stamattina lo gioco contro Ili. Sang Ceri, per caso. E... Secondo giorno molto bene. Game perso. Ma mi sono veramente fatto rispettare. L'ho pure solo killato. Ho sborato abbastanza. Vediamo. Anche se è davvero difficile invadere uno Shaco. Ma già flamma. Let's go. Allora, sì. Alistar contro Blitz. Crank e Samira. È fortissimo. Ma si può sempre vincere. Vinca pure Katarina Tank. Che truffa di merda. Ok. Benvenuto King. Ah, 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 za King. Allora, Pietro. Io cosa vi ho giocato? Vi ho giocato Morgana? Non male Morgana, quasi. Gianna. Trash. Forse era trash. Velo uno se li grabba un bene. Questa qui c'è Dark Harvest. Primo come runa. What the fuck? Si gioca Dark Harvest su 6.000, ragazzi. Avete idea? Ok. 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 Ci pushano. Dubbio che ci leveranno. Ma porca puttana. Ma è normale questo fatto? Ok. 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 Non muore. Tragico. Molto bene. C'è un buco? No. Vabbè, lasciamo pushare. Non è che devo fare qualcosa qua. Questa è una buona frizzata. Potrebbero aver volato là? Aspetta che... Non è il flash. Questa è un pazzo. Rovinata. Abbastanza disperata. Direi bene. Questa è la frizzata. Dice che muore. Io scommetto che non muore. E' patetico Alistair. Non è un campione che va a danno. Ok. Non lo rischerei però. Giusto non giocare. Quella mi ha chiesto la mano. Gliela daremo. C'è un buchino. No. Questa è un buchino. Questa è un buchino. È un buchino. Piccolo frizz tecnico-tattico. Non moriamo mai. A parte che mi sa che non si sa l'aspetto. An enemy has been slain. An ally has been slain. Nooo Non muore Dignitoso Adesso La situazione è qua Abbranza stabile comunque Lui mi vuole ingaggiare Bella idea Io l'ho rifasciuto in faccia Forse senza meno ma Siamo di due squadre pensieri differenti Muoio Allora la caraglina muore Forse non muore Arrivare sarà bene Ti prego ti prego Fa una cazzata Va bene va bene Ah no io devo prendere Ah non mi da più venti Quando hai da quindici Che truffa Eh ma io lo Ah faccio lo stesso la quale scheda Aspetto in base C'è abbiamo swiftness Ricaricabili Ferozen com'è Non mi sembra male Tengo comunque armatura Una pozza Ha il 6 Muore Bella pulizia Venta il mio La guida mi sarà tiltato Che sfiga Che truffa Che truffa Che truffa Va bene va bene Va bene va bene La guida mi ammazza Non credo Ma direi bene E' un'altra Fatola Ma è solo Di celostes Va Brutto Brutto In chi ha il sarà Super winning matchup E' avvicinato A straperder Incredibile Non c'è Non c'è molto Ma non ci credo No ma è solo Stupida Questa C'è un buco Oddio Grimbauds Grazie mille Grimbauds Grazie mille Grimbauds Grazie mille Grimbauds Ho letto Ho letto Whatsapp Green Allora Ti rispondo Appena stacco King Grimbauds Grazie mille N films Guarda 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 Guardà Guarda Guardati Guardi Guardiet Guardi Finisce male Siamo andati un attimo in autopilot Muore pure lei No Allora il fronte non ho detto che ci piace Poi ci facciamo il Knight O Biego O Kale O Rian Sono tutti fortissimi i compagni in squadra Non ce n'è uno che non stimo Che tristezza Ma poi minchia Quanto hanno di range con le trappoline Troppo Non è che l'ho silenziato Oioioi Di ultimo oio Ma ce la faccio No Ma che sfiga ho Di ulti Di Jinx muoio Ah però sono sfigato 950 Mi serviamo pure quei soldi Cazzo Forse c'è la regolare Basta Guarda che labbio Ma poi era importante ucciderlo più che altro Guarda che labbio Non si può giocare Oh Oh E' la una Marta una Marta una Minchia l'OTP Kale Che fa FF subito Mai vista una bella genere Questo c'aveva il flash che c'è Lo sapevo Sa bene come l'ho visto grazie al item da support di Alistair Mi ha me l'ha rilevato Quindi ho reagito in tempo a quella cosa C'è un buco? No Pillabile quello Non flammare? Flammare? Ho fatto una costituzione Forse era molto uguale Più che altro l'angolo per flashare Dovevo scappare da Katarina Ma dovevo anche flashare la ulti Jinx Forse potevo flasharlo andando verso il razzo Flashando di davanti Una roba assurda Facciamo questo e questo Oh grosso Gingiamo per questo Io gioco Gingiamo per questo Ma non pensavo fosse così lungo Ma non pensavo fosse così lungo Ma disse Muore Quello io non sto pagando Cioè abbiamo Flammire che è gigante Se non muore Flammire non c'è perché Stiamo muorendo uno alla volta Bel dodge Vaffanculo Che truffa di merda Porco Giuda C'è il drago C'è il drago C'è il drago Sono in ritardo Non so che vendono questo Stiamo muorendo Io dobbiamo killare Ione Non c'è dubbio Se muore io Se muore io non vedo niente Ma sto laggando Cazzo Ma Dubito Ma chi è Ione Cazzo 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 Vince il game No Dove devi morire tu Eri l'unico che davvero volevo che schiattassi E niente Non sei fega Non muori tu Ma come faccio qui Flash No Oh che cura A chi lo diamo sono adesso Iniziamo da Orianna Semplicemente perché ce l'ho vicino E mando in cooldown L'item Samira Forse che lei è la più forte Ragazzi Samira e Kels Sono i più forti By far Ho fatto il coglione Prima Ione Comunque Se ingaggiamo Noi vinciamo Good vibes Quanto posso fecicare Aspettiamo la mid per io Cazzo No Porco Due non prendiamo rischi Uccidiamo come i tori Con la mano Un po' di Merda Io ho ricollare ragazzi Occhio Buona Mi ha visto Non è detto Non ci entro Chi è? Chi è morto Grave Giocando per quella roba là Credo C'è il dragon un minuto Non lo voglio Posso farci cercare Non lo so Questo ha messo Sciocco di recente Quella box Pure questa Ci sono tutti i topstead Qui è pericoloso Per noi Questa 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 Mena Kale Porco E bad E bad E bad E bad Faccio questo La Beastal Mask com'è? Cioè abbiamo due AP Ma lo faccio Kale è AP? Sì, no? Perché stiamo facendo Bro, dei B-Fight Ma non ci credo Che c'è qualcuno là Manca solo Potevamo aspettare Samir Giugarei per questa roba qua Non so che fare Potevamo morire Potevamo morire a Shaco Muore Quanto cazzo sto laggando? Ma perché non ha dato il grab Ma perché non ha dato il grab? Cioè Cioè è proprio truffato No, ma non c'è qualcuno là No, ma non c'è qualcuno là Quanto cazzo sto laggiare a Shaco Non c'è qualcuno là Non c'è qualcuno là No, ma non c'è qualcuno là Quanto cazzo sto laggiare a Shaco Quanto cazzo sto laggiare a Shaco Quanto cazzo sto laggiare a Shaco La mia moglie è stata Che paga ragazzi Ma poi non capivo un cazzo Mi laggava tutto So